Camillo D'Alessandro, commercialista e revisore contabile, è il nuovo amministratore unico della OPSSPA di Chieti. D'Alessandro, già deputato dal 2018 al 2022, consigliere regionale dal 2005 al 2018 e consigliere provinciale proprio a Chieti dal 1999 al 2005, è stato nominato amministratore unico con decreto del presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, sentito il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. La nomina è stata formalizzata con decreto del presidente Menna a seguito dell'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di amministratore unico della società, organizzazione, progetti e servizi, partecipata dalla provincia di Chieti per l'89,7% e dal comune di Chieti per il restante 10,3%. La nomina è stata ratificata nell'Assemblea ordinaria dei soci, nel giorno dell'insediamento D'Alessandro è incontrato dipendenti e sindacati. La OPS si occupa per i soci del sistema informativo provinciale integrato, del sistema informativo territoriale provinciale, del servizio di controllo per l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, articolata nel progetto VIT verifica impianti termici, nonché del servizio di controllo dell'attestazione di prestazione energetica APE degli edifici. Inizia un lavoro sicuramente complesso ma che mi carica di entusiasmo, anche grazie alla fiducia del presidente Francesco Menna e del sindaco di Chieti che mi hanno onorato di questo incarico che svolgerò sicuramente con passione e determinazione. Sono convinto che l'OPS abbia una storia che vada onorata e riorganizzata da un lato, su ciò che già sanno fare e già fanno a favore della collettività e dall'altra immaginare nuovi servizi perché quando è nata l'OPS, l'OPS è nata con un'ambizione importante che dobbiamo recuperare, tradurre in un piano industriale, raggiungere gli obiettivi, salvaguardare l'occupazione e potenzialmente coinvolgere sempre più nuove energie.